Mauro Menzietti, si torna in piazza, nelle piazze italiane, nelle piazze abruzzesi, ecco già, forse esserci è qualcosa di speciale per non ascoltami. Quest'anno più che mai andava fatto uno sforzo maggiore, vanno riunite le forze per scendere in piazza con maggiore entusiasmo, è un entusiasmo che non va frenato, la prevenzione non si deve fermare. Ripeto, quest'anno più che mai che abbiamo vissuto un periodo di grande difficoltà in cui l'udito è tornato alla ribalta, è tornato a essere importante per la didattica a distanza, per il telelavoro, per i nostri anziani che dovevano appunto mettersi in contatto con i propri cari attraverso un telefonino, attraverso un computer, ecco che chi ha problemi di udito in questo periodo ha sofferto molto, ecco perché non ascoltami con rinnovato entusiasmo torna in piazza con una logistica e con uno sforzo economico molto più importante, però quest'anno più che mai andava fatto per risolvere e per andare incontro alle persone che hanno sofferto di problemi di udito. Arriva come sempre dopo la festa dei nonni, i nonni significa anche bambini, ecco anche i giovani devono essere sensibili a questa problematica. Sì, è un po' la festa della famiglia, la festa dei nonni è la festa della famiglia e nei nonni abbiamo voluto vedere proprio la nostra azione di prevenzione, non c'è nonno senza nipote, ecco che anche il nipote col suo telefonino, con le sue cuffiette e quindi col volume molto spesso troppo alto sta rischiando di avere dei danni permanenti al proprio udito e anche soprattutto lì che va il nostro messaggio di prevenzione. Quanto vi è dispiaciuto non essere nel mese di marzo a Roma con quella grande festa tutti insieme per parlare di questo tema importante? Eh sì, è stato un grande dolore, noi siamo membri italiani, rappresentanti italiani del World Earing Forum, quindi il Forum Mondiale della Sordità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi noi dobbiamo ogni anno organizzare la giornata mondiale dell'udito in Italia, il 3 marzo ogni volta andiamo e portiamo tutti gli specialisti d'Italia, tutta la carovana della prevenzione, quest'anno il Covid ce l'ha annullato, vuol dire che il prossimo anno lo faremo ancora meglio.